Ho chiesto ad Elena che tra l'altro sta facendo un ottimo lavoro proprio sullo statuto di iniziare a entrare in questa squadra di governo della città metropolitana e pian pianino allargheremo la squadra perché una sfida così imponente con i tagli del governo senza risorse con prospettive di taglio del personale una sfida che è stata ritenuta epocale la riforma più importante bisogna creare una squadra bisogna creare una squadra una squadra di donne e uomini di buona volontà che si mettono in gioco nell'interesse della nostra grande area urbana quindi una sfida sulla quale chiamerò anche altri a dare una mano Elena è stata chiamata ha risposto sì ci aiuterà anche in questa fase a prendere delle decisioni importanti che le facciamo in modo sempre più collegiale possibile a cominciare mi auguro dallo statuto nei prossimi giorni